Sono Armando Coppola, sono il Presidente della Quarta Municipalità, siamo qui a Via Nuova Poggioreale 47H dove c'è questo fabbricato pericolante, 15 anni fa era già inagibile, fu messo in sicurezza e questa sera si sono viste delle crepe nelle mura e nell'ingresso. Per fortuna sono intervenuti subito i vigili urbani, i vigili del fuoco e la protezione civile, hanno sgomberato 40 famiglie e sono stati portati queste persone in una casa famiglia a Mare Chiaro, almeno per stasera avranno un tetto sotto cui dormire. Il problema è che manca il controllo del territorio e questi, ahimè, sono i risultati. Speriamo che le cose si possano risolvere al più presto ma mi dicono i tecnici che il problema si porterà avanti per parecchio tempo. Le cose si scopriano che sono i rischi, da altre cose si tratta e non sono i rischi. Iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti